Andiamo a fare con questa missione di Sam Fisher va Anche se secondo me è una missione da fare in cooperativa In solo È abbastanza snervante Eh nella parte in cui si spara è un bel casino Allora Ok sono le 8 Adesso ci spostiamo da un punto all'altro Finché non è l'orario giusto E vediamo un po' che succede Pure sta cosa che sta missione la puoi fare a 8 ore Mamma mia che palle Ok E vediamo un po' Considerando il tempo che è passato Forse sono le 9 Appena arrivo qui Forse sì E vediamo un po' che succede Caricamenti sempre molto rapidi È una cosa che hanno ereditato da altri titoli È l'orario È l'orario È l'orario sì Sono le 9 Ok Perfetto Riproviamo Mi raccomando Non facciamoci vedere Sentire E non uccidiamo nessuno Ci sono Andiamo Perfetto 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 Ok Ok Si va in scena E vediamo un po' Se stavolta riusciamo a farlo Non ne sono tanto convinto E come ho già detto È un pezzo da fare in gruppo questo E non in solo con i bot Però io ci provo lo stesso E amen Elicottero dell'unità Devo cercare di concentrarmi Anche se purtroppo Questo è un pezzo Che va oltre la concentrazione Mi avvicino al punto Roger Venite Sono nella sala server La fai facile Che sei nella sala server Di fianco alla fila di pneumatici Io non posso ammazzare nessuno qui Altrimenti era facilissimo Che cazzo No eh Allora Cominciamo Lancia un dipersivo Ma sei scemo Dillo Dillo che sei un coglione Dai Vedo un soldato Con una minigun Laggiù Vicino al container Dillo che sei un po' Chi cazzo è? Chi cazzo è? Indietro potrebbe scoprirti Ma perché quel tizio mi stava guardando Ieri non l'ha fatto? Che stress sto pezzo È un soldato con una fottuta minigun Non vedo nessuno All'ingresso del campo No Merda 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 Oh Oddio cosa ho fatto Oddio cosa ho fatto Cazzo Non ci posso credere Madonna mia Madonna mia Uno dice Buono ce l'hai fatta E no Ma la parte più difficile Arriva adesso La parte più brutta Arriva adesso Cazzo è un soldato Voleva venderli al Santa Blanca Santa Blanca Voleva venderli ed è in un campo dell'Unidad Credo volesse la loro protezione Ah Direi che non ha funzionato eh Ha avuto quello che si meritava Vediamo che cosa abbiamo qui Figlio di puttana Cosa Ha caricato i file della CIA Su un server dell'Unidad Posso anche hackerarlo Il problema è che quando aprirò quella porta Avremo un sacco di ospiti indesiderati Eh che bello Io da solo non ce la faccio a farli fuori tutti Cazzo Senti Il problema è che ci vorrà del tempo Sai Devo Hackerare il server Scaricare i file della CIA E poi cancellare tutti i dati dal disco Senti Se arriva l'Unidad Aprite i rubinetti del piombo Oh wow Nemico in arrivo Ok Teneteli occupati Ci vorrà un minuto Qualcuno è nervosetto A tutte le Unidades Non perdano di vista l'enemico Non riferisco già avanti Mi sono avuto di nuovo Cazzo no Avrò fuoco su questi strozzi Ragazzi per favore Cerchiamo di essere uniti No ragazzi no Matchwood Come va quell'hack Sì Dammi due minuti Sarebbe meglio più in fretta Pesco Uomo a terra Uomo a terra Dai muoviti Cazzo Dai muoviti cazzo Cazzo Ehi Raduniamoci No cazzo Aiuto Ma perché Dove sono finiti gli altri Ma perché non si sono radunati qui Porca puttana Eva Dove cazzo sono andati Quei figli di puttana Vedi è per questo Che non si può fare con i bot Quelli se ne vanno Cazzo Poi sto cazzo di Sam Fisher Ma quanto ci mette Oh Sto stronzo Che palle Io ci riproverò qualche altra volta Ma con i bot È parecchio frustrante questa cosa Bastava che stiamo tutti nello stesso punto Tranquilli E la cosa è fattibile Capito Ma così Così è un bel casino Cazzo Nomad Queen Matchwood Queen Nomad Ti ricevo Sono in posizione Ecco le coordinate Mi raccomando Non facciamoci vedere Bel casino così Non uccidiamo nessuno Peccato perché prima avevo fatto quell'azione Che era veramente una bella azione Però I bot sono dei coglioni Non ci posso fare niente Si dividono Non rimangono vicino a me E quello è il problema Non rimangono vicino a me Questi bastardi Quello Dobbiamo stare tutti in quella stanza Così appena arrivano Noi li facciamo fuori Ma se se ne vanno E mi lasciano tutta a me Io che faccio da solo Complicata capito Molto complicata E vai E vai E vai Dalla sorpresina Dai Stronzone Stronzone Ehi Uno dell'unità con minigun Vicino al container Qui devo stare attento Perché qui rischio sempre di essere beccato Vedo un altro bersaglio Marco un nemico Dai dov'è lo stronzo che passa di qua Eccolo lì C'è un bersaglio con mitra Ecco il bersaglio numero 5 O questi due si danno il cambio E io vado Cammina Cammina Ma c'è giusto quello là dietro Che potrebbe essere un pericolo Superato quello Dorei arrivare da Samfish Poi si tornerà a fare la simpatica sparatoria di sempre Cazzo Ma come erano due Sia quello che quello laggiù C'erano due Ma porca vacca boia Erano due Perché ho visto quello in lontananza Ho detto Quello sarà il tizio Che poi viene qui E invece no Ce n'era un altro a destra Porca troia Cazzo E vabbè Fanculo E' bello che dopo tutto questo Devo anche sopravvivere alla sparatoria Una sparatoria che dovrei fare insieme a dei compagni Perché i bot se ne vanno E mi lasciano solo Io ripeto Io non so se ce la farò Sono in posizione Ecco le coordinate Questa è anche una missione extra Questa è fatta apposta Per giocarla con gli altri Non uccidiamo nessuno Non lo so Ci provo un altro po' di volte Ma Che palle Malefici bot Che se ne sono andati via prima Mi hanno lasciato da solo Mi hanno lasciato Altrimenti si rimanevano Non succedeva E invece è successo Fanculo Tu e giù Vediamo come va con un diversivo Vai dal diversivo Dai No no non è possibile Dai non fai lo stronzo Dove sto vedo diversivo E guardi a me Un soldato dell'unità da solo Proprio dove c'è la pila di pneumatici Un bersaglio Adesso aspettiamo i soliti due stronzi Che cazzo fai? Eh sono tre Ma il tempo c'è Aspettare i due stronzi Che si danno il cambio Adesso Ne vedo uno con i mitra Ecco Ora quello si darà il cambio Con l'altro tizio Eccolo là Ne ho un altro Sono cinque Appena si danno il cambio Vado su E poi devo stare attento In lontananza Al tizio di destra Ora ci mettiamo qui Stai giù A fare il coglione Stai giù Ok Ora qui c'è l'ultimo E poi raggiungiamo Sam Fisher E poi siamo punta a capo Stai giù Brutto stronzo Stai giù Stai giù Ok Dobbiamo stare uniti ragazzi Dobbiamo stare uniti cazzo Ah Direi che non ha funzionato Qual è il comando? Perché ogni volta lo faccio dal controller Allora Aspetta Aspetta Vediamo dal controller qual è Allora Introfreno Soggetti Ruota degli ordini si chiama Ok Allora Ah ruota degli ordini Tab Ok Ha avuto quello che si meritava Vediamo che cosa abbiamo qui Tab Ok Figlio di puttana Cosa? Vedo un soldato Ha caricato il file della CIA su un server dell'Univad Posso anche hackerarlo Il problema è che quando aprirò quella porta Avremo un sacco di ospiti indeseberati in cerca di bersagli Cosa posso fare? Mi servite di sopra come security Senti Il problema è che ci vorrà del tempo Sai Devo Hackerare il server Per scaricare i file della CIA E poi cancellare tutti i dati dal disco Senti Se arriva l'Univad Aprite i rubinetti del piombo Oh wow Nemico in arrivo Ok Teneteli occupati Mi ci vorrà un minuto Sono in allerta Tornate da me Ricevuto Attacco il nemico Ma che cazzo ci fanno questi qui? Ragazzi ma dove cazzo siete? Ma veramente? Io non ci posso credere Non ci posso credere ragazzi Grazie Ma Hatchwood Come va quel lago? Sì Dammi due minuti Sarebbe meglio più in fretta No ti prego no Resta qui cazzo Cazzo Ma non si può fare in solo Sta cosa ragazzi Non posso farlo Con i bot Come faccio a gestire tutti quelli Se i bot fanno gli stronzi? Come cazzo devo fare con i bot? Come ci riesco? Non è umanamente possibile Sta cosa con i bot E giuro non so che cazzo fare Non so come farla Con i bot Sono troppo stupidi Veramente troppo Nomad Qui in Meshwood Qui in Nomad Ti ricevo Sono in posizione Ecco le coordinate Mi raccomando Non facciamoci vedere Sentire e non ci vediamo Sì ho visto che prima Me ne sono arrivati in tre addosso Ma come li facevo fuori A quei tre? Un bel casino Proprio un gran bel casino Lancia un diversivo Dai vai dal diversivo Dai Che palle Guarda Un soldato dell'unità da solo Di fianco alla fila di pneumatici Ho un altro persaglio Un terzo Le do una torretta E ora aspettiamo Sentiamo che sta missione Non si può fare in solo Veramente Cioè i bot Sono davvero troppo stupidi Sì Alzati in piedi Mi raccomando Cazzo Cambio la mina E ti alzi in piedi Ma stiamo scherzando Prova a dire Ragazzi sono qui Beccatemi E su Un po' di strategia Un po' di intelligenza Oh c'è un tizio lì Faccio un tempo a segnarlo Ok E sono cinque Mo qui spunta l'altro Traiamoci che è meglio Dai Lo so che mo spunti Su su Eccoti qua C'è un bersaglio con mitra Lì bisogna resistere Altro che imparare Però se i bot non restano dove sono io E se ne vanno Ci inculano male Se noi restiamo tutti e quattro Dentro quel punto Arrivano Li mitrailliamo E via E invece no No Loro devono andarsene via Devono lasciarmi solo E farsi ammazzare E non va bene sta cosa C'è il tizio qui Sì Ok Quello ormai Abbiamo capito come fregarlo Fino a qua più o meno abbiamo capito come fare Il problema è il punto dopo Vedo messo Quindi è così che sono fatti i gol Questo chi è? Uno Uno della CIA che ci ha tradito Che palle È riuscito a rubare moltissimi dati importanti È un bastardo Voleva venderli al Santa Blanca Santa Blanca? Aha Voleva venderli ed è in un campo dell'unità Credo volesse la loro protezione Ah Direi che non ha funzionato eh Ha avuto quello che si meritava Vediamo che cosa abbiamo qui Figlio di puttana Cosa? Ha caricato i file della CIA su un server dell'unità Posso anche hackerarlo Il problema è che quando aprirò quella porta Avremo un sacco di ospiti indesiderati in cerca di bersagli Cosa posso fare? Mi servite di sopra come security Senti Il problema è che ci vorrà del tempo Sai Devo Acherare il server Scaricare i file della CIA E poi cancellare Mi servite di sopra Ma di sopra intende sopra di noi Se arriva l'unità Aprite i rubinetti del piumo Wow Nemico in arrivo Ok Teneteli occupati Mi ci vorrà un minuto Raduniamoci gente Li abbiamo fatti nel fosile Aguante Aguante Non è un po' comando Lo riposo già salito A certi posizioni Apriò il fuoco Cecchino A terra Tornate da me Roger Uomo a terra Uomo a terra Giù a terra Elicottero Ehi Raduniamoci Però già Mi muovo Ma Edgewood Come va quell'hack? Sì Dammi due minuti Sarebbe meglio più in fretta Quella fascia ti tiene sottotiro Riparti Torna Ricevuto Ehi Raduniamoci Ok Mi muovo La fascia ce l'ha con noi Al riparo Dai E cazzo Temati vuoi sbrigare Tornate da me La fascia sta per sparare Giù Uomo a terra Altri uomini dell'unità Ci serve una mano qui Tenete la posizione Sono qua Cazzo La fascia ce l'ha con noi Al riparo Merda C'è un cecchino Fanculo dai E dai Ma sto stronzo Ci mette 60 anni Ma come cazzo Devo fare Frustrante In una maniera Assurda Pure la fascia Che viene a rompere i coglioni Poi No ma davvero Ma quanto ci mette Io non so come fare Veramente Io non so come gestirmela È un cazzo di casino Nomad Qui in Meshwood Qui Nomad Ti ricevo Sono in posizione Ecco le coordinate Ma Mi raccomando Non facciamoci vedere Sentire E non uccidiamo nessuno Nemici nell'area In campana Vedo un soldato Dell'Unidad Dove c'è il posto di blocco Poveramente Quello che bombarda È il colmo Aereo Unità Di in avvicinamento Giù Così ti verranno Fermati Vediamo come va Con un diversivo Vai Vai dal diversivo Vai Testa di minchia Io qui potrei già andare diretto Però non voglio rischiare Che palle Guardali Guardali Che se ne stanno lì Buoni Fermi A non fare un cazzo Non sanno nemmeno muoversi stealth Sti stronzi Che se glielo dico Si fanno anche beccare Pezzi di merda Ne ho un altro Ne ho un altro Ne sono cinque Eh vabbè Ma io ci provo ancora un po' di volte Ma poi basta Perché Alla fine è una missione extra Non è che c'entra con la storia Cioè è una roba palesemente da fare con gli altri Se i botti rimanessero con me Ce la potrei anche fare Ma quelli se ne vanno Si fanno ammazzare E allora che stiamo a fare? Che stiamo facendo? Cioè tutta la mia concentrazione Va in fumo Non serve a niente che mi concentro Se poi gli altri rovinano tutto Ma dov'è il tizio? Ma che cazzo fa? Ma perché sta lì? Ma che fanno? Non si muovono adesso Sti stronzi? No dai ma mi prendi per il culo Ma che cazzo fanno adesso? Non l'hanno mai fatta sta cosa adesso Io non capisco Ma non si muove Mi sono fattuto se quello non si muove Ma che cazzo? Ho una sorpresina per questi ombres Vai vai No affanculo Ma io dico Ma perché sono fermati? Non l'hanno mai fatta sta cosa Non l'hanno mai fatta Che si fermavano Sti due stronzi Perché stavolta Li sono fermati? Allora vedi che è un gioco stronzo Vedi che è un gioco infame Sono sempre Sono più volte che lo rifaccio Ed entrambi Si incrociano e se ne vanno Perché stavolta Sono placati lì? Perché stavolta Sono rimasti lì? Questo non capisco Non lo riesco a comprendere È fatto apposta È fatto apposta Per farti rompere le palle Eh sì Che rottura di coglioni Immensa proprio No adesso 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 faccio un esperimento Agisco diversamente stavolta Voglio cambiare una cosa Nella mia tattica Perché mi sono rotto le palle Ora faccio un'altra cosa Me la rischio Tanto qui si perde E allora Perso per perso A questo punto Me la voglio rischiare Ma faccio una cosa Ora faccio una cosa Vediamo come va con il diversivo Vai dal diversivo Vai dal diversivo Stronzone Che cazzo fa? Ma che è scemo No ma sul serio Ma è scemo Ho una sorpresina Per questi Ombres Ma era diversivo E' un soldato Ed è solo Vicino alla pila Di pneumatici Di dietro Così ti vedo Lo so che sto rischiando Ma lo voglio fare lo stesso Vedo un soldato Con una minigun Vicino all'ingresso del campo Con una minigun Ok E fino a qui ci siamo Vedo Meshwood Quindi E' così che sono fatti i gol Questo chi è? Uno Uno della CIA Che ci ha traditi E' riuscito a rubare Moltissimi dati importanti E' un bastardo Voleva venderli Al Santa Blanca Santa Blanca? Ah Voleva venderli Ed è in un campo Dell'Unidad Credo volesse La loro protezione Ah Direi che non ha funzionato Ha avuto quello Che si meritava Vediamo che cosa Abbiamo qui Figlio di puttana Cosa? Ha caricato i file Della CIA Su un server Dell'Unidad Posso anche hackerarlo Il problema è che Quando aprirò quella porta Avremo un sacco di ospiti Indesiderati In cerca di bersagli Cosa posso fare? Mi servite di sopra Come security Senti Il problema è che Ci vorrà del tempo Sai Devo hackerare il server Scalicare i file Della CIA E poi cancellare Tutti i dati Senti Se arriva l'Unidad Aprite i rubinetti Del piumbo Wow Nemico in arrivo Ok Tenetevi occupati Ci vorrà un minuto Ricevuto Qualcuno è nervosetto Ok Hanno autorizzato Che convoquiamo A le uniti di reforz Che abbiamo In i secti Vecini Para che lo supporti Con questa amenazza Vanno a che allà Abra il fuoco Arrivano Cazzo ma dai sono tutti morti Nessuno che mi ha raggiunto E' inaccettabile da fare con i bot a sta missione Stavolta non sono nemmeno riuscita a raggiungermi Io veramente sono senza parole Porca troia non ci posso credere Madonna mia che bot di merda Nomad qui in Meshwood Qui Nomad ti ricevo Sono in posizione Ecco le coordinate Mi raccomando non facciamoci vedere Sentire e non uccidiamo nessuno Che bot di merda proprio Ma chi è? Pure questo Pure questo Pure questo Cioè ragazzi Pure questo qui Io che sto andando a fare la cosa E giustamente essendo un open world del cazzo Deve apparire la macchina dei tizi Che non c'entrano un cavolo con la missione E mi vengono a fare un culo così Ovviamente Ovvio E te pare Vuoi la missione liscia vuoi? Eh no E la missione liscia non te la diamo Eh vabbè Che palle Assurdo Veramente assurdo tutto questo Veramente assurdo tutto questo Nomad Qui in Meshwood Qui Nomad Ti ricevo Sono in posizione Ecco le coordinate Mi raccomando Non facciamoci vedere Sentire e non uccidiamo nessuno Me li ammazzerei tutti questi qua Guarda Forse per me li ammazzerei tutti Ma purtroppo non posso farlo Lancia un prossimo Che ti scoprano Vai a vedere dai E vai a vedere Stronzone Sarei un pezzo di merda Lancia un di Persepo Sarei un soldato È da solo Controllate la fila di pneumatici Un pezzo di merda gli ammazzerei senza Il perro di espirituale Tualfare Eseluti QueHHH Ehi Che 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 lo vego male Non lo sapevo io. Lo sapevo io. Vedi tu me sorda. Quindi è così che sono fatti i ghost, eh? Questo chi è? Uno, uno della CIA che ci ha traditi È riuscito a rubare moltissimi dati importanti È un bastardo Voleva venderli al Santa Blanca Santa Blanca? Voleva venderli ed è in un campo dell'Unidad Credo volesse la loro protezione Ah, direi che non ha funzionato, eh? Ha avuto quello che si meritava Vediamo che cosa abbiamo qui Figlio di puttana Cosa? Ha caricato i file della CIA su un server dell'Unidad È un soldato con una fottuta minigun All'ingresso del campo Posso anche hackerarlo Il problema è che quando aprirò quella porta Avremo un sacco di ospiti indesiderati in cerca di bersagli Cosa posso fare? Mi servite di sopra come security Senti Il problema è che ci vorrà del tempo Sai, devo hackerare il server Scaricare i file della CIA E poi cancellare tutti i dati dal disco Senti Se arriva l'Unidad Aprite i rubinetti del fiume Wow Nemico in arrivo Ok Tenetevi occupati E ci vorrà un minuto Tornate da me Sempre non sto nerviosi Mi muovo A tutte le Unidades Non perdano di vista l'enemico Lo riforzo già va in sua ayuda Attacco il nemico Uomo a terra Presto Uomo a terra Uomo a terra Tu ripeto È un'extra Ed è una palese missione da fare insieme a giocatori veri Cioè Con i botte non ce la si fa Io non posso fare il lavoro di quattro uomini E dai su Ma è mica Call of Duty questo Poi prima che ce la stavo per fare Quello stronzo ci ha messo un casino a fare l'accairaggio Ma arriva pure un elicottero che ci bombarda Oh E che è? Qualcos'altro Nomad Qui in Medford Qui Nomad Ti ricevo Attura di palle Ecco le coordinate Un attimo C'è attività ostile Mi raccomando Non facciamoci vedere Sentire e non uccidiamo nessuno Così ti scopo là dietro Così ti scopo là dietro Vedo un soldato dell'Unidad Vicino alla pila di pneumatici No non è possibile Dai Sei Vedo me, Suod. Vediamo che cosa abbiamo qui. Figlio di puttana. Cosa? Ha caricato i file della CIA su un server dell'Unidad. Posso anche hackerarlo. Il problema è che quando aprirò quella porta, avremo un sacco di ospiti indeseberati in cerca di bersagli. Cosa posso fare? Mi servite di sopra come security. Senti, il problema è che ci vorrà del tempo. Sai, devo hackerare il server, scaricare i file della CIA e poi cancellare tutti i dati dal disco. Senti, se arriva l'Unidad, aprite i rubinetti del piume. Lo sappiamo tutti come finirà questa missione. Tutti lo sappiamo. Fa lei se che finirà male. Nemico in arrivo. Ok, teneteli occupati. Mi ci vorrà un minuto. Li abbiamo fatti interfusire. Raduniamoci, gente. Ricevuto, mi muovo. SIGAN PELEANDO, CARAJO! NO SE RINDAN! AHORA MISMO LES ENVIAMO RECUERZOS! RESISTAN! ENGAZO! NINCUDA NOVEDADAS AHORA! MANTECA LA BUSQUEDA! LO UCCIZO! TORNATELA ME! ROGER, MI MUOVO! Ehi, raduniamoci. Sì. Matchwood, come va quel luck? Sì, dammi due minuti. Deve meglio più in fretta. CECCHINO! CHE CAZZO! ELICOPTERO, A TERRA! TORNATE DA ME! ROGER! Ehi, raduniamoci. Ok, mi muovo. CECCHINO, A TERRA! Ragazzi, aiuto! Vi prego, aiutatemi! Ragazzi, vi prego, aiutatemi! Oh, stronzi! Sì! Incredibile. Veramente incredibile. Io non so dove cazzo andare, guarda. È una cosa ingestibile. Pezzi di merda. Ah, cagare, va. Niente, eh. Mi volete aiutare? Eh, vabbè. Affanculo. Belli bot, eh! Belli bot! Bellissimi i bot, eh! Proprio belli. Utili, soprattutto. Ma io non so perché sto continuando a rifarla, sta missione. Sta missione dovrei mandarla affanculo. Ma no, facciamo qualche altro tentativo, poi basta. Torno a fare la storia. Questa è una palese missione da fare con giocatori veri. Con tre giocatori veri. E questa è la conferma. Perché un giocatore vero, se ti vedeva morente, non ti lasciava lì come uno stronzo. Capito? Un giocatore vero ti avrebbe tirato su, ti avrebbe curato. Non ti lasciava lì a morire. Siccome sono bot mongoloidi, perché sono bot mongoloidi, se ne fregano, dicono stai morendo, e chi se ne frega? Perdiamo la missione, e chi se ne frega? Quello dicono. Eh, io sono il povero scemo che ci rimette. Semplice. No, davvero, è stata una situazione assurda. Non è possibile, dai. che palle, veramente, che palle. Poi vengono tutte le direzioni, cioè... E' proprio tosta sta parte. E' proprio tosta sta parte. Vedo me, suod. Quindi, è così che sono fatti i gols, eh? Questo chi è? Uno, uno della CIA che ci ha traditi. Sì, è riuscito a rubare moltissimi dati importanti. E' un bastardo. Voleva venderli al Santa Blanca. Santa Blanca? Ah, ah. Voleva venderli ed è in un campo dell'Unidad. Credo volesse la loro protezione. Ah, direi che non è funzionato, eh? Ha avuto quello che si meritava. Vediamo che cosa abbiamo qui. Figlio di puttana. Cosa? Ha caricato i file della CIA su un server dell'Unidad. Posso anche hackerarlo. Il problema è che quando aprirò quella porta... Avremo un sacco di ospiti indeseberati in cerca di bersagli. Cosa posso fare? Mi servite di sopra come security. Senti, il problema è che ci vorrà del tempo. Sai, devo hackerare il server, scaricare i file della CIA e poi cancellare tutti i dati dal disco. Senti. Se arriva l'Unidad, aprite i rubinetti del piumbo. Wow. Nemico in arrivo. Ok, teneteli occupati. Mi ci vorrà un minuto. Allora, uniamoci, gente. Perciò, il culo è nervosetto. Non ci hanno autorizzato che convochiamo le unità di riferimento che abbiamo nei settori vecinos per che ci sottolineano con questa amenazza. Vado. Vado. Io non so proprio dove cazzo andare, veramente. Nada che riportarvi nel momento continuo con la possibilità della mia amica. Bello. Già uno dei nostri a terra, eh? Bello. Uomo a terra. Uomo a terra. Tornate da me. Cioè, già tutti morti. Ragazzi, ci rendiamo conto. E io dovrei fare sta missione con questi? Ma io non riesco a fare un cazzo con questi. Come va quell'hack? Io non ci riesco. Sarebbe meglio più in fretta. Giù a terra, elicottero. Io non ci riesco. Non ci riesco. Dai, cazzo. Quei tre botti si sono fatti ammazzare subito. Ma l'avete visti? Non abbiamo manco iniziato che quei tre botti si sono fatti ammazzare. Lo so solo contro tutti. Dai. Io non posso fare sta roba da solo, cazzo. Qui c'è bisogno di un team. Poi vengono a tutte le parti. Sotto, dietro, sopra. Sti tre stronzi non sono nemmeno arrivati dove stavo io. Che sono crepati tutti. Basta. Faccio un ultimo tentativo e poi basta. E poi torno a fare la campagna perché mi sono rotto il cazzo. Basta. Anzi, lo sai che ti dico? Grazie. 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 Vada, ti ricevo Sono in posizione Ecco le coordinate Mi raccomando, non facciamoci vedere, sentire e non uccidiamo nessuno Grazie Grazie